Ciao, eccoci ad un nuovo appuntamento con Buyer's Line Finance. Con questo approfondimento oggi parliamo di RSI, definizione e utilizzo nell'ufficio acquisti. Se l'argomento ti interessa, continua a seguire il video e se ti va iscriviti al nostro canale, lascia un like qui sotto e seguici sul nostro blog e canali social. E ora iniziamo! L'indice di forza relativa o RSI è uno strumento finanziario utilizzato nell'analisi tecnica per verificare quando il prezzo di ciò che stiamo analizzando è prossimo ad una di queste due situazioni. Ipercomprato, cioè quando molti investitori hanno acquisito lo strumento causandone un aumento rapido. Ipervenduto, cioè quando molti investitori hanno venduto lo strumento, causandone una discesa rapida. In finanza parliamo quindi di rappresentazione di forza o debolezza. Che cos'è e come si interpreta l'RSI? Abbiamo quindi compreso che questo indice è correlato ai ribassi e ai guadagni di un determinato bene. Più precisamente, si tratta di un oscillatore che si muove all'interno di un preciso intervallo. Nel caso di questo indicatore, l'intervallo è compreso tra 0 e 100. Solitamente i dati possono posizionarsi su tre punti critici. Sopra i 70 si considera il mercato ipercomprato, suggerendo una possibile inversione al ribasso. Sotto i 30 si considera il mercato ipervenduto, suggerendo una possibile inversione al rialzo. Intorno ai 50 si considera un mercato neutrale, senza una chiara tendenza. Inoltre, possiamo parlare di divergenza quando l'RSI e il prezzo si muovono in direzioni opposte. Una divergenza rialzista, prezzo scende, RSI sale, può segnalare una possibile inversione al rialzo, mentre una divergenza ribassista, prezzo sale ed RSI scende, può segnalare una possibile inversione al ribasso. Come si calcola l'RSI? L'equazione per calcolare l'RSI è la seguente. RSI uguale 100-100 diviso 1 più media chiusure al rialzo diviso media chiusure al ribasso. Proviamo a chiarire con un esempio. Supponiamo che l'indice di riferimento dell'alluminio secondario abbia chiuso le sedute al rialzo con una media del 5% e le sedute in calo con una media del meno 10%. Dividiamo 5 per 10 e otteniamo 0,5. Aggiungiamo quindi 1 per ottenere 1,5. Dividiamo poi 100 per il numero ottenuto, in questo caso 1,5. Il risultato è 66,66 che sottraiamo a 100. In questo esempio l'RSI dell'alluminio secondario è 33,34. Come l'indice RSI può aiutare un buyer? L'RSI può supportare il buyer nell'ottimizzare il timing degli acquisti delle materie prime, minimizzando il rischio di acquistare a prezzi troppo alti. RSI inferiore a 30, ipotesi di acquisto. Quando l'RSI scende sotto 30, il prezzo in una zona di ipervenduto. Questo può essere un buon segnale per il buyer di considerare l'acquisto in quanto si prevede un possibile rimbalzo verso l'alto. Ad esempio, se il prezzo del rame scende e l'RSI mostra un livello inferiore a 30, potrebbe essere vantaggioso acquistare aspettandosi una ripresa dei prezzi. RSI superiore a 70, ipotesi di attesa. Quando l'RSI supera 70, il prezzo è in una zona di ipercomprato, quindi il rischio di un calo è maggiore. In questa situazione, un buyer potrebbe posticipare l'acquisto, attendendo un'eventuale correzione. Ad esempio, se l'RSI per il petrolio è sopra a 70, l'ufficio acquisti potrebbe decidere di non acquistare, aspettando che i prezzi ritornino a livelli più bassi. Chiaramente questo deve essere solo uno strumento di supporto ed ognuno deve fare le proprie considerazioni relative al proprio mercato di riferimento. Arrivederci e come al solito ricorda, segui la linea dell'acquisto efficace, segui Buyer's Line!